Stavolta è sicuramente in posizione regolare, ci arriva il Sharawi, riesce a passare su De Frai, dall'altra parte c'è Onda, lo serve il Sharawi, Onda, ancora Keiske Onda, contropiede impeccabile del Milan, due passaggi, 1-0 al settimo minuto, Keiske Onda. Beh è stato bravissimo Bonera a dare questa palla in profondità sui Sharawi, l'abbiamo visto in queste prime uscite, bravo poi ad attaccare lo spazio, controllare bene in profondità, dribblare il difensore che è entrato in maniera irruente, troppo in ritardo, doveva temporeggiare, scappare con il Sharawi, ma poi la palla che è geniale, perché aveva già visto l'insedimento di Onda che arrivava benissimo sul sfensore e portiere. C'è Conte inquadrato, il gol è giapponese ma la sgroppata è tutta italiana ed è di un giocatore che se sta bene fisicamente a Conte serve e non poco, Stefano Sharawi. Eh sì, ha risolto i suoi problemi fisici, è partito con tanto entusiasmo, giocando bene, scelte giuste, l'errore di De Frey lo devo sottolineare perché è arrivato in ritardo, doveva scappare con lui, doveva conoscere le caratteristiche del giocatore ed andare ad occupare la profondità. Il Sharawi aspettava solo che tu lo affrontassi fuori tempo per guadagnarsi poi la possibilità di mettere questa palla meravigliosa ad Onda.